Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video vlog, intanto sta bloccando anche lei quindi andate sul suo canale che trovate come sempre in descrizione per vedere anche il suo vlog, siamo, se vedete, all'oasi di Sant'Alessio che è tipo un parco faunistico piccolino ma il motivo principale per cui siamo qua è perché hanno i bradipi che io non li ho mai visti in vita mia, sono patite dei bradipi e finalmente potrò vederli, quindi buona visione. Ciao a tutti 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 Ciao a tutti